Sì, è l'Africa, non ci pensi? Non succede niente per dieci anni e poi di colpo succede tutto. Ragazzi, questa è vita. Scatto! Ma sentite il vento? Non è la mia goma, che biciclette sono? Di che parte bisogna andare qua? Non lo so. Non era questa la strada? No! Avete voluto far guidare lui adesso? Ma quale guidare? Mica un polvo! Ma tu chi sei? Lorenz d'Arabia? Non so voi, ma io ero anni che non mi divertivo così ragazzi. Cosa era? Anni!